Inaugurata questa mattina la pilotina pilota 3 aiuterà il corpo piloti dei porti di Trapani e Marsala per garantire la sicurezza portuale. Buongiorno, bentrovati. Questa è la nostra notizia d'apertura, ci guardiamo in servizio. E' stata inaugurata questa mattina la pilotina pilota 3, fabbricata in Inghilterra. Servirà a garantire la sicurezza portuale, uno dei principali servizi tecnici nautici per ogni porto. A fare gli onori di casa è stato il comandante laureato Figliomeni e responsabile di mezzi nautici, comandante Alessandro Ficara. Stiamo inaugurando un acquisto che abbiamo fatto circa un anno fa di una pilotina che effetturà il servizio di pilotaggio nei porti di Trapani e Marsala, soprattutto su quello di Trapani ovviamente. Non so se è chiaro il concetto di servizio di pilotaggio ai sensi della legge 84-94, il servizio di pilotaggio è un servizio di interesse generale, atto ad assicurare la sicurezza nei porti. I piloti vanno a bordo sulle navi e qua adivano nell'assistenza della manovra sia in ingresso che in porto il comandante della nave. Questa è una pilotina Nelson, è uno scafo Nelson costruito nel 1979. La barca è datata, però è uno dei migliori scafi che siano mai stati costruiti. È molto adatta per i nostri mari perché ha uno scafo, una carena a V profonda e ci consente di poter ottemperare, poter effettuare il nostro servizio di pilotaggio anche con condizioni meteomarine avverse. Quindi siccome qua nel porto di Trapani, quando spiegano soprattutto eventi da ovest, nord-ovest, fuori dall'imboccasua del porto abbiamo anche 3-4 metri d'onda. Diciamo che questa barca riesce a navigare in sicurezza e a portarci a bordo, ad accompagnarci a bordo, a effettuare le manovre di ingresso delle navi che approdano al porto di Trapani. Questa è una Nelson di 12 metri e mezzo, motorizzata con due motori Iveco, Aifo e speriamo nei prossimi giorni di poterla mettere in servizio e iniziare questa nuova avventura, questa nuova barca. Presenti all'inaugurazione anche il deputato Dario Safina e il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida. Io mi auguro che ce ne siano di tante altre perché è un segnale positivo, questa nuova pilotina potenzia un servizio anche per gli omeggi in sicurezza di navi, passeggeri, mercantili ed è importantissimo, un servizio importantissimo in un porto. Mi auguro che ce ne siano di altri, ho augurato di acquistarne qualcun'altra, anche in prospettiva perché con l'escavazione dei fondali la storia del porto di Trapani ritornerà in auge e cambierà anche dal punto di vista dello sviluppo socio-economico. Dunque mi auguro che prossimamente ci siano anche tante altre occasioni come questa e tante altre inaugurazioni di un nuovo futuro, mettiamolo così. Dunque buon vento a loro e buon vento a tutti noi per lo sviluppo delle attività portuali che significa anche economia e significa anche occupazione. E ora una breve pausa, torniamo con tutti i titoli e tutti i servizi. Sequestro di beni per Rosario Scalia, il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. L'uomo è in carcere per l'omicidio di Salvatore Lombardo. Tutto fumo e niente arrosto attesa ieri in consiglio comunale la mozione di sfiducia nei confronti di Annalisa Bianco. A sorpresa il passo indietro di Guaiana che tira in ballo la maggioranza. A pranzo con il Trapani calcio, momento conviviale e solidale quello organizzato ieri al Chivanis Club Trapani nei locali della parrocchia Santissimo Salvatore. Un compleanno speciale. L'artista trapanese Gianni Bisbini ha partecipato ai festeggiamenti per gli 87 anni di Papa Francesco. Due regali sotto l'albero. Il Trapani questa mattina ha ufficializzato due colpi di mercato. In Granata arrivano Francisco Sartore e Roberto Convitto. In arrivo il bonus affitti. Questo è l'approfondimento di oggi. Feste più serene per i siciliani che sono rientrati nella gradatoria per l'ottenimento del bonus. In questi giorni verranno erogati i pagamenti relativi all'anno 2021. Ancora buongiorno e bentrovati. Sequestro di beni nei confronti del 48enne partannese Rosario Scalia. L'uomo è stato condannato a oltre 19 anni di carcere per l'omicidio di Salvatore Lombardo. Bene per un totale di 180 mila euro sono stati sequestrati al 48enne partannese Rosario Scalia. Il provvedimento ai fini della confisca emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani è stato eseguito dai carabinieri. Il sequestro riguarda un immobile, terreni, beni aziendali, conti correnti e depositi a risparmio. Dalle indagini sarebbe infatti emerosa una sperequazione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato dal 48enne. Scalia è stato condannato in primo e secondo grado a 19 anni e 11 mesi di carcere per l'omicidio di Salvatore Lombardo, assassinato nel 2009 a Partanna, per volere dell'imprenditore Domenico Scimonelli, ritenuto vicino all'allora boss latitante Matteo Messina Denaro. Un omicidio di mafia commissionato in seguito a una rapina avvenuta all'interno di uno dei supermercati Despar gestito proprio da Scimonelli. Rosario Scalia, secondo quanto emerso dalle indagini e dalle informazioni fornite da due collaboratori di giustizia, avrebbe avuto il compito di basista fornendo al killer tutte le informazioni utili sulle abitudini e gli spostamenti della vittima. Sequestro di beni per tre imprenditori agricoli palermitani, soldi utilizzati per favorire la latitanza di Matteo Messina Denaro. Vediamo. Eseguito dalla Direzione Investigativa Antimafia un decreto di confisca nei confronti di tre imprenditori agricoli palermitani, il provvedimento ha interessato un'azienda di San Giuseppe Iato con 15 immobili e oltre 60 ettari di terreno dal valore di un milione e mezzo di euro. Stando alle ricostruzioni degli investigatori, il complesso agricolo sarebbe stato acquistato all'asta a un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello di mercato e rivenduto successivamente ad un prezzo ampiamente maggiorato. Parte del ricavato sarebbe finita nelle casse di Cosa Nostra per finanziare la latitanza del boss Matteo Messina Denaro. Morto lo scorso mese di settembre, gli accertamenti, grazie anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia spiegano dalla DIA, hanno permesso di ricostruire le dinamiche sottese alla vendita di tale compendio aziendale che è stato oggetto di speculazione immobiliare ad opera di Cosa Nostra. Aveva manifestato l'intenzione di farla finita attraverso un messaggio inviato a un compagno di scuola. Il 19enne che questa mattina si è buttato sotto il treno proveniente da Castelvetrano. L'episodio è avvenuto nei pressi del passaggio a livello della via Matera. Il giovane era stato già notato mentre camminava sui binari da alcuni automobilisti, poi però aveva fatto perdere le tracce nascondendosi tra la vegetazione. Ha atteso il passaggio del convoglio e si è buttato sotto. Scattato l'allarme, sul posto è giunta un'ambulanza del 118. Soccorso dai sanitari, il giovane è stato trasportato al Sant'Antonio Abate. Presenti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria chiamati a ricostruire la dinamica esatta di quanto accaduto. E voltiamo pagina. Al Consiglio Comunale si era parlato di una mozione di sfiducia da parte dell'opposizione nei confronti di Anna Lisa Bianco. Il documento però non è stato presentato ed è stato il consigliere Guaiana ieri a spiegarne il motivo. Sentiamo. Tutto fumo e niente arrosto e questo è il risultato del Consiglio Comunale di Trapani che si è svolto ieri. In città infatti si parlava di una mozione di sfiducia presentata da parte dell'opposizione nei confronti di Anna Lisa Bianco, consigliera e presidente del Consiglio Comunale, ad oggi sospesa perché coinvolta nell'operazione Aspide. Ma ieri la mozione di sfiducia che vedeva come primo firmatario il consigliere di Ammo Trapani, Giuseppe Guaiana, non è stata presentata. Ed è stato lo stesso Guaiana a spiegarne il motivo. Noi, ha detto all'inizio del Consiglio Comunale, non abbiamo mai votato Anna Lisa Bianco come presidente ed è questo il motivo per cui non presenteremo nessuna mozione di sfiducia. Lanciamo la palla alla maggioranza, la stessa che aveva deciso, unita, in nome di Anna Lisa Bianco. Saranno loro a fare ciò che ritengono più opportuno. Anzi, ha detto concludendo Guaiana, potrebbe e dovrebbe essere lo stesso gruppo consigliare del PD a presentare la mozione, basandosi su ciò che è stato dichiarato dal deputato Dario Safina. Il riferimento chiaramente è al comunicato stampa diffuso nella mattinata di ieri dall'onorevole Safina che chiedeva ad Anna Lisa Bianco di mantenere la massima lucidità a tutela delle istituzioni che rappresenta. Per tale motivo, aveva scritto Safina, seppur da convinto garantista, consapevole che ciascuno degli indagati potrà far valere la sua innocenza, vorrei invitare la Presidente del Consiglio Comunale di Trapani ad una seria riflessione sull'opportunità di liberare l'assise civica dall'imbarazzo di un vertice che, alle prese con una vicenda che comunque esprime un livello di diffuso malcostume, che non è detto che abbia rilevanza penale, potrebbe pregiudicare l'autorevolezza dell'intero consenso civico, nonché l'autonomia del suo Presidente. Ed ora una breve pausa, torniamo tra pochissimo. A pranzo con il Trapani Calcio, un momento conviviale e solidale, quello organizzato ieri dal Kivanis Club Trapani nei locali della parrocchia Santissimo Salvatore. Un compleanno speciale, l'artista trapanese Gianni Bisvini ha partecipato ai festeggiamenti per gli 87 anni di Papa. Francesco. Due regali sotto l'albero, questo è il titolo di sport. Il Trapani questa mattina ha ufficializzato due colpi di mercato. In Granata arrivano Francisco Sartore e Roberto Convitto. È stato firmato ieri il manifesto della fabbrica San Rocco, la rete associativa che si pone l'obiettivo di salvaguardare, migliorare e arricchire di nuovi servizi gli spazi del centro museale. Vediamo. Finalmente la fabbrica San Rocco inizia a muovere i primi passi in città. Ieri pomeriggio, presso il centro museale di Via Turretta, le associazioni aderenti si sono incontrate per firmare il manifesto che di fatto rappresenta il debutto ufficiale di questa nuova realtà. Si tratta di una rete associativa che si pone l'obiettivo di salvaguardare, migliorare e arricchire di nuovi servizi gli spazi del centro museale e che è nata grazie all'incontro tra il museo San Rocco e alcuni volontari delle varie associazioni del territorio. Essendosi ritrovati in sintonia con l'azione artistica e socioculturale che da anni si realizza all'interno del museo, i volontari di queste associazioni hanno così deciso di fare dello stesso centro museale uno spazio di incontro, confronto e attività sinergiche a servizio della collettività. Il progetto ovviamente è stato immediatamente accolto dalla direzione del museo San Rocco che da anni cerca di realizzare uno spazio dei giovani all'interno del centro di Via Turretta. Come dice la parola fabbrica rimanda a quella capacità che l'uomo ha sempre di creare, di pensare qualcosa di nuovo e il fatto che a farlo, a voler fabbricare, siano dei giovani quindi costruire un mondo diverso, un mondo migliore, noi speriamo, mi riempie di gioia perché questo avviene proprio dentro lo spazio del San Rocco. In qualche modo veramente si compie una finalità del San Rocco che non è fine a se stesso ma è orientato, proiettato verso il territorio, verso soprattutto i giovani e coloro che fanno della cultura non un pure esercizio accademico ma uno strumento per la crescita della società. Ecco, questa rete associativa ha ideato tanti progetti in serbo, tipo quali? Nel manifesto appunto si aprono tante strade, un manifesto veramente importante perché indica della fabbrica i punti cardine attorno a cui tutti i giovani vogliono muoversi. Ecco, una delle prime attività che si stanno proponendo è quella di creare un open day in cui si possono fare dei laboratori, in cui le varie associazioni, secondo il loro talento e la loro capacità, mettono a disposizione questo talento perché i giovani, i ragazzi possano avvicinarsi e lavorare insieme, fare una scrittura creativa, un laboratorio teatrale, occuparsi di scienze naturali. Ecco, sono tante le proposte che vengono fatte e speriamo di realizzarle presto. Momento conviviale e solidale, quello organizzato ieri dal Chivanis Club di Trapani e sposato dal Trapani Calcio presso i saloni parrocchiali della Chiesa Santissimo Salvatore. Le interviste a mister Alfio Torrisi, Alberto Acquadro e Sabina Braschi. Vediamo. È una bellissima giornata, condividere questi momenti con i bambini, con la presenza anche del vescovo, del parroco, della parrocchia che ha messo a disposizione questi uffici, questi saloni. Questo salone, voglio dire, penso che sia stata una giornata bella dove deve lasciare qualcosa a tutti perché metterci a servizio sempre dei più piccoli è qualcosa che alla fine lascia il segno. Da parte nostra è stato veramente bello condividere questi momenti con questa gente e dimostra ancora una volta che lo sport è volano per la società. No, siamo felici che la società ha partecipato a questa manifestazione ma oltre a come giocatori volevamo partecipare come persone perché ci sono molte persone che hanno bisogno di aiuto e quindi noi siamo felici di dare una mano e di aiutarli. Il nostro club, il Kivanese Club di Trapani, ha avuto questa gioia infinita grazie alla sensibilità enorme della dirigenza del Trapani Calcio a offrire questa possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri bambini che sono più in difficoltà, magari l'appartenenza a qualche famiglia disagiata, però la felicità di vederli insieme, di vederli chiacchierare, giocare anche a calcetto con la squadra, con il Trapani che sono il loro idolo. Io sono molto felice di aver avuto questa idea come club di Trapani, il Kivanese Club di Trapani di organizzarla, anche se sento il dovere di dire che c'è ancora molto e tanto di più da fare, veramente che si possono avere altre opportunità per lavorare in questa direzione, perché se c'è una logica l'appartenenza ad un club service è questa. Ieri mattina al Palazzo Vescovile è stato firmato un protocollo di intesa tra la Casa di Cura Villa dei Gerani di Erice e l'ente ecclesiastico Santissima Trinità della Diocesi di Trapani per la realizzazione di un ambulatorio solidale ortopedico. La Casa di Cura trapanese assicurerà gratuitamente prestazioni di visita specialistica ortopedica alle persone indigenti o senza fissa dimora. I pazienti verranno segnalati ai medici della struttura attraverso la rete sanitaria solidale già attiva presso l'arco della Speranza in via Errante. Tanta soddisfazione arriva dal Vescovo Pietro Maria Fragnelli che ha dichiarato si tratta di un bel dono di Natale che ci permette di guardare con occhi nuovi tutti coloro che possono avere bisogno di cure ortopediche specifiche ma non riescono a farlo. Un compleanno speciale, quello di Papa Francesco al quale ha simbolicamente partecipato anche la città di Trapani attraverso Gianni Bisbini. Il polizistista infatti anche quest'anno ha deliziato il pontefice non solo con uno spettacolo su misura ma anche donandogli della frutta martorana. Noi l'abbiamo ascoltato. Trapani dal Papa ancora una volta e ancora una volta il nostro ambasciatore per la leggerezza, per l'allegria è Gianni Bisbini che per l'ennesimo anno è andato appunto a Roma a festeggiare insomma con la sua arte il compleanno del Papa Francesco. Gianni sei l'ambasciatore di questa città e del mondo dello spettacolo. Mi ritrovo ovviamente per me è un grandissimo onore essere chiamato, essere così desiderato forse tra virgolette, un po' troppo no, a parte gli scherzi, però per me è davvero un motivo di grande onore essere appunto chiamato per essere presente praticamente ogni anno con il Santo Padre e anche stavolta è andata così. era molto emozionante perché anche questa volta è il suo compleanno, 87 anni e se le porta bene anche al di là degli acciacchi che si possano avere insomma a quell'età lì, però l'ho trovato molto bene. Senti ma che spettacolo si fa davanti al Papa? Allora mi hanno chiesto, lui ha sempre il desiderio, come tu sai io sono trombettista quindi mi piace sentire il suono della tromba, questi pezzi che io porto, però questa volta gli ho suonato il Tanti Auguri, mi sembrava il minimo no? E poi ho organizzato, avevo preparato una cosina, una chicca particolare, ho fatto preparare proprio qui a Trapani un foulard grande perché la mia idea è stata faccio fare un foulard giallo insomma ai colori vaticani, ho fatto stampare la colomba della pace e scritto sotto felice cumpleagno, essendo lui argentino e gli ho fatto un gioco di magia, a lui piacciono tutte queste cose così e l'ho tirato fuori dal nulla, questo grande foulard che poi ho donato a lui, poi ho fatto tante altre cose perché lì bisogna parecchio improvvisare, tu arrivi e magari hai in mente un tipo di spettacolo, poi invece ti dicono guarda che i tempi sono questi, bisogna fare questo, bisogna, sai c'è un'organizzazione dietro, sembra che eravamo in pochi ma dietro al Santo Padre c'è... Senti ma gli riporti i saluti dai trapanesi? Sempre, sempre, gli ho portato la frutta martorana, ho preso un bel vassoio di frutta martorana sì sì e io l'ho portata appositamente proprio insomma è un po' il simbolo anche della nostra città, della nostra terra, delle nostre tradizioni. Buon Natale a tutti, buon Natale a tutti, buone feste ragazzi, ciao! Gli appuntamenti su Telesud, questa sera programmazione prettamente sportiva alle 20.30, trasmetteremo Juvi Cremona Trapani Shark, incontro valevole per il quindicesimo turno del girone verde di serie A2 Old Wild West. Alle 23 invece l'ultima giornata del 2023 della serie A1 di Pallamano femminile tra Handball Erice e Lions Sassari. Adesso una breve pausa, torniamo con lo sport. Lo sport, il Trapani batte due colpi di calcio mercato. Alla vigilia dell'ultimo incontro dell'anno sul campo delle città di Sant'Agata, la società Granata ha acquistato Francisco Dos Santos Sartore e Roberto Convitto. Vediamo il servizio. Doppio grande colpo del Trapani, la società Granata questa mattina ha ufficializzato due acquisti nel reparto offensivo, a cominciare da Francisco Dos Santos Sartore, esterno d'attacco brasiliano classe 1995, arriva da svincolato. Nella prima parte di stagione ha militato nel Renate in serie C. Proprio in C vanta una lunga militanza, più di 200 le presenze tra Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris e Fiorenzuola. Prelevato dalla Vibonese invece Roberto Convitto, il partinicese torna in Sicilia dopo le esperienze, tra le altre, con Dattilo e Licata. Convitto lo scorso anno ha vinto il campionato di serie D con l'Arezzo ed è stato l'autentico protagonista con la maglia della società calabrese, avendo messo a segno 10 reti in 15 presenze. Proprio ieri alcuni supporter della curva est della Vibonese avevano affisso uno striscione proprio contro l'accessione del calciatore. Caffo, Convitto, non si tocca. Pochi minuti fa invece l'annuncio del club Granata. Negativo il weekend delle Trapanesi in eccellenza. Il San Vito allo scadere si riprende la vetta in promozione, in ripresa Custonaci e Valdeirice in prima categoria. Ma ecco il quadro completo delle serie minori dell'ultima giornata. Vediamo. Ultimo weekend prima della pausa imposta dalle festività natalizie negativo per le formazioni trapanesi in eccellenza. A partire dall'Accademia Trapani che prosegue il periodo nero, quarto K.O. consecutivo. Al Roberto Sorrentino passa la seconda della classe, il Profavara per 1-0. Cade anche il Mazzara 46 a Casteldaccia. I giallorossi perdono terreno proprio dal Profavara dei suoi più 4. 1-1 tra Folgore e Fulgatore. Ottavo pari nel campionato dei rossoneri che si erano però portati in avvantaggio al 44esimo con un autogol di Amato. Al 65esimo a togliere le castagne dal fuoco ci ha pensato Onua. Perde e viene sorpassato anche il Castellammare sul campo del super giovane Castelbuono. Inutile il gol di Taibi al 97esimo per il 2-1 finale. Crolla in casa il Mazzara. L'Atletic Club Palermo passeggia e vince 7-0. Pareggiano Sciacca e Geraci 1-1 e Marineo Misilmeri 0-0. La giornata si era aperta sabato con il successo per 2-1 della Nissa sul campo dell'Aspra, ultima in classifica. 28 punti per San Giorgio Piana e San Vito. Le due squadre vanno alla pausa natalizia in vetta al girone A di promozione. Bel regalo del Gemini contro gli Arberesce battuti per 1-0. Il San Vito invece fa il gran colpo sul campo del Casteltermini guidato da un super Romito Bulates, autore di una tripletta. L'ultima del girone di andata non ha sorriso all'Alba Alcomo 1928 superato in casa dalla Parmobal per 2-1. Il medesimo risultato ma con tre punti più in classifica lo tiene il Marsala. Regolata la giardinellese in rimonta grazie alle reti di Genesio e Tormina. In prima categoria il 2023 lo chiude in vetta il Regina Mundi che rifila nove reti all'Atletico Marsala. Cinque punti di vantaggio sul Berice Sport che cade in casa contro il Palermo Calcio Popolare. I partannesi avevano ribaltato l'iniziale svantaggio con Curseri prima e Licata nella ripresa. Poi gli ospiti rimontano definitivamente con Di Maria e Giglio tra il settantesimo e il settantaduesimo. Ritrova il sorriso il Valderice al terzo posto con il Renzolo Piccolo. Cammarata e il neoacquisto Antonio Candela stendono l'Alcamo 1928. Al Custonaci basta un gol di Vincenzino Trapani per battere il Salemi. Perde in casa invece la prima vera Marsala contro lo Sporto Palermo. Ed eccoci qui con l'approfondimento. Feste più serene per moltissimi siciliani che sono rientrati nella graduatoria per l'ottenimento del bonus affitti. Vediamo. Questo è anche l'ultimo servizio per oggi. Io mi fermo qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Ci guardiamo il servizio. In arrivo in questi giorni proprio sotto le feste di Natale il pagamento del bonus affitti per il 2021 alle oltre 10.000 famiglie siciliane ammesse al contributo come da graduatoria. È stata infatti conclusa la procedura per l'erogazione del contributo. Il bando emanato dalla regione siciliana lo scorso agosto ha messo a disposizione quasi 17 milioni di euro per sostenere le famiglie nelle spese di locazione. Una buona notizia per le famiglie siciliane e beneficiari che entro questa settimana avranno accreditati i pagamenti nei loro conti correnti. Una boccata d'aria per chi ha sofferto gli effetti della crisi post covid. L'erogazione del bonus affitti va in questa direzione. Un sostegno concreto all'economia reale per contrastare la crisi e favorire la crescita del sistema sicilia. Una procedura conclusa con grande anticipo rispetto agli anni precedenti sostiene l'assessore Ricò in modo da dare un po' di sollievo e serenità a migliaia di famiglie siciliane nel periodo di Natale. Sono 10.524 le domande accolte per una media di circa 1.600 euro a famiglia. L'aumento del costo della vita e il caro bollette colpiscono principalmente i nuclei familiari più fragili e questa misura sostiene coloro che in questo momento hanno più bisogno. Le domande accolte sono esattamente 10.524 e sono distribuite in tutte e nuove le province siciliane. Palermo guida la lista con 4.722 beneficiari per un totale di 8.545.000 euro circa, seguita da Catania con 1.921 domande per un totale di 3.200.000 euro circa. Messina con 1.435 per un totale di 2.141.000 euro circa. Agrigento con 362 per 395.160 euro. Trapani con 404 per 587.975 euro. Siracusa con 569 per 693.626 euro. Ragusa con 763 per 906.525 euro. Caltanissetta con 197 per 229.361 euro. E infine Enna con 151 per un totale di 130.401 euro. Per poter accedere al bonus le famiglie dovevano avere un ISEE inferiore a 15.347 euro oppure un reddito fino a 35.000 euro ma che avessero subito una diminuzione del reddito IRPEF di almeno il 25% a causa della pandemia da Covid-19.